ok ciao ragazzi allora continuiamo le nostre lezioni sul calore e in particolare vi ricordate quelle due formule che avevo dato sul calore cerchiamo di aggiungere qualcosa in più e faremo un esercizio leggermente più complicato una prima precisazione ricordate la formula q uguale m per c per delta t dove m era la massa c calore specifico e delta t era la variazione di temperatura bene questa formula la usavamo quando una sostanza veniva riscaldata o raffreddata quindi quando c'era un delta t ora definiamo un'altra grandezza fisica la capacità termica come il prodotto di m per c che cosa significa capacità termica qual è la sua definizione è il calore necessario per far variare di un grado centigrado o se vogliamo di un grado kelvin una certa sostanza quindi sostanzialmente questa formula potrebbe anche essere riscritta come q uguale capacità termica per la variazione di temperatura ve lo dico nel caso in cui negli esercizi troviate non so dato un corpo di capacità termica e vi danno la capacità piuttosto anziché per darvi magari la massa e calore specifico ok vediamo un esercizio un pochino più complicato sempre sull'equilibrio termico che cosa facciamo mettiamo adesso dentro il nostro recipiente del ghiaccio e dell'acqua precisamente ghiaccio ad esempio meno 5 gradi e dell'acqua 30 gradi questi due si scambieranno calore ed è evidente che l'acqua che a 30 gradi cederà calore al ghiaccio che quindi lo assorbirà sicuramente raggiungeranno un equilibrio termico come quando mescolavamo dell'acqua con ad esempio un metallo dove sta il problema il problema è che c'è un passaggio di stato in mezzo perché il ghiaccio è a meno 5 l'acqua è a 30 che cosa potrebbe verificarsi o che il ghiaccio fonde oppure che l'acqua solidifichi questo in base chiaramente al valore della massa e al valore della temperatura reciproche a meno che nel testo non dicano esattamente quello che succede cioè tipo non so dicono calcola la temperatura di equilibrio in cui dopo che tutto il ghiaccio si è fuso sapendo di avere acqua alla fine diciamo che noi non possiamo essere sicuri a priori che tutto il ghiaccio si è fuso ed è diventata acqua quindi bisogna fare sostanzialmente una stima ecco come facciamo a stimarlo la stima che dobbiamo fare è sostanzialmente questa dobbiamo calcolare quanto calore serve al ghiaccio per fondere completamente e nello stesso tempo quanto calore l'acqua riesce a dargli prima di congelare a sua volta ora perché io stimo che tutto il ghiaccio si fonda in base a cosa lo decido beh vedo che solo 10 grammi di ghiaccio mentre o 500 grammi di acqua inoltre io so che l'acqua anche una grande inerzia termica quindi difficile raffreddarla velocemente per cui io mi immagino che tutto il ghiaccio riesca a fondere però l'immagino non ne sono sicura è solo la matematica che può aiutarci allora facciamo il calcolo beh il ghiaccio per fondere ha bisogno di e torniamo queste formule allora eravamo meno 5 quindi devo prima portare il ghiaccio a 0 gradi usando questa formula mc per delta t che è quella di riscaldamento e poi devo aggiungere il fatto che il ghiaccio fonda ecco che quindi scriverò la massa 10 grammi di ghiaccio per il calore specifico del ghiaccio che è 0 5 per la differenza della temperatura finale che è 0 meno iniziale che è meno 5 quindi mi diventa più 5 più m per l dove la massa del ghiaccio è 10 e il calore latente è 80 facendo il conto 825 calorie quindi al ghiaccio per diventare acqua a 0 gradi ho bisogno di queste calorie ma l'acqua quanto è in grado di dargliene prima di congelare cioè la cosa peggiore che può capitare all'acqua è arrivare a 0 gradi allora proviamo a calcolare nel caso in cui arrivi a 0 gradi quanto calore è in grado l'acqua di cedere basta fare la massa quindi 500 grammi per il calore specifico dell'acqua 1 per la differenza di temperatura dell'acqua finale quindi 0 meno iniziale 30 beh si vede che il calore che l'acqua è in grado di dare prima di arrivare al punto di congelamento sono meno 15.000 calorie quindi questo il calore che è in grado di fornire l'acqua è molto di più di quello che sarebbe il ghiaccio per fondere e quindi posso essere sicura che l'ipotesi che avevo fatto era corretta cioè l'acqua riesce a fornire al ghiaccio tutto il calore necessario e quindi possiamo concludere che il ghiaccio fonde ecco che allora ho fatto la mia stima la mia ipotesi è corretta e posso dire quindi che la temperatura di equilibrio si trova tra 0 e 30 gradi questo è fondamentale per impostare bene il problema ripeto questa cosa qui magari non è semplicissimo farla a volte il testo stesso ci dice dove si trova la temperatura di equilibrio tuttavia se non viene fornita questa indicazione questo è il modo per trovarlo ecco che adesso possiamo impostare quindi il nostro problema allora l'impostazione si fa nel modo canonico cioè io dico che il calore che il ghiaccio assorbe il assorbito del ghiaccio eccolo qui è uguale a meno il calore ceduto dall'acqua effettivamente l'acqua cede calore e il ghiaccio se lo prende tutto ripeto è importante mettere questo segno meno perché il calore che uno dà l'altro lo prende ma per il valore assoluto la grandezza è la stessa ma i segni sono differenti a questo punto però devo arrivare adesso alla complicazione dove sta sta che il ghiaccio quando assorbe questo calore in realtà quale formula uso per il ghiaccio non posso più usare un'unica formula perché il ghiaccio fa tante cose precisamente il ghiaccio fa tre step prima si riscalda fino ad arrivare a zero gradi poi fonde ed è questo a secondo termine infine terzo termine il terzo step questo cioè la adesso il ghiaccio che è diventato acqua si riscalda ulteriormente quindi il ghiaccio ha i tre step l'acqua invece no l'acqua è semplicemente si raffredda ed eccola qui la forma di raffreddamento adesso devo andare a mettere dentro i valori la massa del ghiaccio 10 calore specifico del ghiaccio 0 5 il delta t da meno 5 che era all'inizio fino a 0 sarà di 5 gradi più la massa del ghiaccio che era 10 per il calore latente di fusione del ghiaccio che era 80 in realtà questo calcolo se avevamo fatto prima la stima l'avevamo già fatto era 825 quindi lo ritrovo questo calcolo era calore per far arrivare proprio alla fusione tutto il ghiaccio e poi adesso abbiamo questo abbiamo l'ultimo termine il ghiaccio che è diventato acqua adesso deve riscaldarsi e quindi metteremo la massa del ghiaccio 10 il calore specifico dell'acqua perché a questo punto il ghiaccio è diventato acqua per la differenza di temperatura temperatura di equilibrio meno la temperatura a cui siamo arrivati cioè 0 gradi e infine quello dell'acqua l'acqua era 500 grammi con le specie temperature di equilibrio meno 30 andando a svolgere i calcoli portando a destra e a sinistra trovo che 510 te è uguale a 14.175 e dividendo quindi per 510 la temperatura di equilibrio mi risulta 27,8 gradi centigradi in perfetta linea con quanto avevamo stimato prima che la temperatura di equilibrio se vi ricordate doveva essere tra 0 e 30 gradi io ho trovato effettivamente una temperatura che cade in questo intervallo quindi attenzione questo è un problema decisamente più complicato ma che noi dovremmo essere assolutamente in grado di fare io vi darò poi degli esercizi a riguardo dove quindi si incomincia sempre c'è prima di equilibrio parte sempre da qui da questa eguaglianza però il calore assorbito e il calore ceduto spesso e volentieri non si calcola con un'unica formula ma per step è un po questo esercizio possiamo dire l'unione tra i due che abbiamo fatto in classe tra quello in cui vi chiedevo quanto colore devo fornire al ghiaccio per portarlo da meno 5 a 20 gradi centigradi e il problema dell'equilibrio ok tutte queste cose questi esercizi dell'equilibrio vengono fatti in un recipiente molto particolare che si chiama calorimetro come fatto questo recipiente perché un recipiente molto particolare perché questo recipiente deve essere fatto di materiale isolante e meglio ancora se riflettente ad esempio non posso prendere che ne so una pentola di alluminio no non va bene devo prendere un contenitore isolarlo magari ci metto del polistirolo intorno un po come quando non so d'estate andiamo in gelateria a comprare gelato e chiediamo che ci diano le vaschette di polistirolo perché facciamo così per isolare il contenuto in questo modo evito il flusso di calore da dentro a fuori quindi isolo le pareti e poi la parte interna potrei farla a specchio in questo modo tutto il calore che si scambia viene riflesso all'interno avete presente i termos che si usavano una volta per andare in montagna? adesso hanno migliorato molto insomma la procedura ma una volta l'interno era fatto di un'ampolla di vetro argentato riflettente che andava proprio a riflettere appunto il calore, le onde termiche ma nello stesso tempo possiamo anche usare un recipiente metallico quindi è riflettente, l'importante è coinvolentarlo, cioè isolarlo all'esterno questo ci garantisce che gli scambi avvengano dentro il calorimetro ma non con l'esterno che cosa ci permette una situazione di questo tipo? ci permette di poter dire che l'acqua cede ad esempio del calore al metallo e il metallo se lo prende tutto o viceversa, il metallo cede il calore all'acqua e l'acqua se lo prende quindi il calore avviene tra questi due non con l'esterno che cosa ci mettiamo anche in un calorimetro? due cose importanti, il termometro e un agitatore allora l'agitatore serve perché tutta la temperatura risulti omogenea in ciascun punto di questo calorimetro e il termometro serve per misurare la temperatura all'interno sperando di tornare a scuola presto questo è un esperimento che faremo in laboratorio quindi dove utilizzeremo proprio il calorimetro ok procederei cambiando argomento in realtà però siamo sempre nell'ambito del calore la dilatazione termica allora che cos'è la dilatazione termica? trovate questi argomenti a pagina 291 del vostro libro allora possiamo dire cioè se noi riscaldiamo un corpo noi vediamo che questo corpo si dilata cosa vuol dire dilatare? vuol dire aumentare le sue dimensioni che tipo di dilatazione possiamo avere? distingueremo tre casi quella lineare, quella superficiale e quella volumetrica e cominciamo con quella lineare ad esempio consideriamo una barra di metallo allora specifico la differenza tra queste tre dilatazioni una barra un'asta ok ha questa caratteristica ha una dimensione molto più grande delle altre due cioè un'asta a me interessa la lunghezza dell'asta non vado sicuramente a guardare lo spessore ok le altre due dimensioni non sono considerevoli rispetto a quella che è la lunghezza ecco che allora io considererò solamente la dilatazione rispetto a quella dimensione che è predominante allora immaginiamo di avere una barra un'asta lunga L0 se io la riscaldo vedo che questa lunghezza iniziale aumenterà di una certa grandezza quello che possiamo chiamare l'allungamento delta L fino ad arrivare ad una lunghezza L la legge che troviamo è questa L uguale L0 che moltiplica 1 più alfa delta T che cosa troviamo in questa formula? troviamo L che è la lunghezza finale L0 è la lunghezza iniziale e questo L0 moltiplica 1 più alfa che è un coefficiente di dilatazione lineare che è una caratteristica del materiale in una tabella o su internet eventualmente voi trovate per ogni materiale il coefficiente di dilatazione e poi la variazione delta T che è la variazione di temperatura cioè di quanto riscaldo o di quanto raffreddo l'unità di misura allora la variazione di temperatura possiamo metterla in gradi centigradi ma volendo potrei metterla anche in gradi Kelvin alfa dovrà essere gradi centigradi alla meno 1 per quanto riguarda invece la lunghezza iniziale e finale posso usare il sistema internazionale cioè metterla in metri entrambe oppure anche entrambe in centimetri entrambe in millimetri l'importante è che queste due unità di misura siano tra di loro concordi non posso mettere metri e centimetri e se io questa formula la scrivo un po' meglio vediamo come cioè potrei ad esempio pensare di svolgere questo prodotto l uguale l0 più faccio questo per questo e questo per questo più l0 per alfa per delta t adesso porto a sinistra l0 quindi vedo l meno l0 uguale l0 per alfa per delta t posso scrivere che delta l è uguale a l0 per alfa per delta t ma niente è la stessa cosa di questa formula è solo un altro modo di scrittura non serve che la memorizzate potete tranquillamente imparare questa ed eventualmente vedere come si può ricavare l'allungamento vi faccio osservare però una cosa di questa formula dove si vedono alcune caratteristiche importanti l'allungamento è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura e questo è estremamente importante adesso poi capiremo anche perché lo è e vi faccio osservare anche un'altra cosa la variazione di lunghezza il delta n potrà venirci fuori di segno positivo o negativo a seconda del segno di questo delta t cioè se la temperatura aumenta quindi avremo un delta t positivo anche il delta l sarà positivo cosa significa un delta l positivo? significa che la lunghezza finale sarà maggiore della lunghezza iniziale beh, come lo interpreto? chiaro, se io riscaldo la barra il delta l è positivo se invece sto raffreddando quindi ho un delta t negativo allora anche il delta l sarà negativo risultato? la barra si è contratta si dice cioè è diventata più corta la lunghezza finale è minore della lunghezza iniziale per fortuna questa formula questa legge è la stessa anche se siamo vi faccio vedere velocemente poi ci torniamo che io parli di dilatazione termica superficiale è la stessa guardate è precisa cambia solo un coefficiente ma non cambia niente e anche per quella volumica volumetrica ok? è la stessa cosa è la stessa espressione quindi in realtà basta che voi ne memorizziate una la prima quella della dilatazione lineare dopodiché consideriamo le lunghezze metto LL e qui metto il coefficiente di dilatazione lineare consideriamo la superficie al posto di L metterò S e S0 e qui metterò il coefficiente di superficie considero il volume metterò V e V0 e qui metterò il coefficiente di dilatazione volumico-volumetrica vediamo un attimo che cosa possiamo allora dire qui perché si parla di dilatazione termica superficiale ad esempio nelle lastre nelle lamine dove ho due dimensioni che contano mentre ad esempio lo spessore è trascurabile allora mi interessa valutare soprattutto di quanto aumentata la superficie la cosa un'altra cosa interessante è che il coefficiente di dilatazione superficiale quello che io qua ho chiamato beta in realtà altro non è che il doppio di alfa questa si trova noi in realtà non lavoreremo tantissimo con questa vi faccio vedere invece quest'altra che è molto importante quella della dilatazione volumica volumetrica guardate la formula è la stessa V uguale V0 uno più questa volta scrivo gamma delta T dove è la dilatazione volumica e V e V0 sono rispettivamente il volume finale e il volume iniziale anche qui gamma è tre volte alfa è come se stessi considerando alfa che è moltiplicato le tre dimensioni sostanzialmente mentre in quello superficiale questo beta era l'alfa moltiplicato per le due dimensioni che andavo a considerare perché è più importante questo? questo lo si trova molto spesso questo succede quando tutte le dimensioni sono rilevanti quindi ad esempio a un cubetto un cubo ha tutte e tre le dimensioni significative ma non solo c'è un altro caso ancora molto più importante questo qui i liquidi i liquidi non hanno una dimensione non hanno neanche due dimensioni i liquidi hanno un volume quindi per i liquidi noi parleremo solo e esclusivamente di dilatazione volumica è l'unico è l'unica tipo di dilatazione per i liquidi ecco e qua vi ho scritto appunto che per i liquidi esisterà solo il gamma quindi in internet o sul libro o nelle tabelle voi troverete il gamma solo e esclusivamente dei liquidi invece per quanto riguarda tutti i solidi voi dovrete prendere il vostro alfa e per trovare beta e gamma farete rispettivamente per due o per tre ecco volevo solamente fare una puntualizzazione vi ricordate quando vi ho parlato del termometro noi nel termometro abbiamo detto alcune cose un po' le abbiamo date un po' per scontate ci abbiamo detto che il termometro a liquido era fatto da un bulbo e da un tubicino di vetro trasparente per vedere appunto il colore di questo liquido in questo abbiamo ipotizzato fosse mercurio ma non ha nessunissima importanza e avevamo detto che all'aumentare della temperatura la colonina di mercurio saliva ecco si dava per scontato in realtà una cosa questa che in questo caso abbiamo fatto vedere la formula per l'allungamento è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura ma in realtà io questa cosa che ho detto per l'allungamento lo posso dire per la variazione di volume perché la formula è la stessa cioè la variazione di volume del liquido del mercurio è direttamente proporzionale all'allungamento che cosa significa questo? significa che quando io vado a costruire un termometro do per scontato che l'innalzarsi del mio livello di mercurio quindi l'innalzamento del volume di mercurio è legato alla variazione di temperatura in un modo direttamente proporzionale l'andamento è appunto lineare e quindi posso tranquillamente fare io punto di 0 gradi centigradi il punto di diffusione di ghiaccio posso andare a mettere nell'altro punto particolare il punto di evoluzione dell'acqua 100 gradi centigradi e posso suddividere questo intervallo in parti uguali proprio perché dico che il volume aumenta in modo direttamente proporzionale all'aumento di temperatura ecco non posso che non parlarvi però di un caso molto curioso del caso dell'acqua e del caso di quello che viene detto l'anomalia dell'acqua allora qui ho fatto due grafici questo c'è anche sul vostro libro questo l'ho aggiunto per dare maggiore completezza all'argomento allora intanto ho preciso una cosa l'acqua è un comportamento normalissimo l'anomalia dell'acqua è da 0 4 gradi quindi l'anomalia sta qui sta nel tratto che io vi ho evidenziato qua in rosso per il resto è normale si comporta come tutte le altre sostanze guardiamo un po' questi due grafici allora sull'asse delle x ho sempre la temperatura sull'asse delle y se non ho qui il volume e qui la densità che cosa noto qui? qui il volume all'aumentare della temperatura diminuisce per poi aumentare la densità invece fa il contrario aumenta e poi diminuisce allora proviamo a pensare alla situazione normale che cosa abbiamo detto un attimo fa che se io riscaldo un corpo quindi se io aumento la temperatura il volume deve aumentare quindi il comportamento dopo i 4 gradi è normalissimo all'aumentare della temperatura il volume aumenta qui ci siamo ecco la cosa strana è qui da 0 a 4 gradi all'aumentare la temperatura il volume diminuisce quindi qui sta l'anomalia ora perché nella densità troviamo un andamento contrario rispetto a quello del volume beh la motivazione è questa vi ricordate la formula della densità la densità altro non è che la massa fratto il volume allora che cosa possiamo dire qui che se io aumento il volume la densità è inversamente proporzionale al volume per cui diminuisce ecco che un aumento di volume mi causa proprio una diminuzione di densità lo capisco proprio dalla formula della densità e dalla sua proporzionalità inversa con il volume ecco che quindi io mi aspetto che all'aumentare della temperatura la densità diminuisca e questo è il comportamento normale il comportamento anomalo sta qui da 0 a 4 gradi la densità aumenta ecco qui vi ho scritto insomma più o meno le cose una cosa insomma interessante cioè la conseguenza di questa anomalia una conseguenza importante l'ho trovata eventualmente anche spiegata nel libro di testo ok anche questa tutto questo insomma ho cercato di essere più fedele possibile al libro e allora proviamo a guardare un attimo la parte di destra intanto allora immaginiamo di essere al polo nord quindi freddo quindi l'aria qua su è fredda ok che cosa mi aspetto mi aspetto che si raffreddi la parte superficiale quindi ad esempio arrivo a 6 gradi centigradi si raffredda sopra sotto è più caldo perché non è a contatto con l'aria tuttavia guardiamo un attimo il grafico della densità se io sono a 6 gradi sono qui 8 gradi sono più in là a 6 gradi io ho questa densità a 8 gradi sono più a destra la densità è minore cosa significa questo? che se a 8 gradi la densità è minore vuol dire che è più leggero vi ricordate Archimede fatto l'anno scorso? cosa fanno i corpi a minore densità? galleggiano tornano su salgono invece l'acqua a 6 gradi è più densa e quindi che cosa fa? affonda ecco che allora succede una cosa molto particolare che qui abbiamo un mescolamento dell'acqua in questo modo tutta l'acqua avrà una stessa temperatura questo funziona fino a 4 gradi questo mescolamento lo vedremo tra un attimo lo chiameremo moto convettivo ma ne parleremo tra un po' ecco sono qui invece sono arrivata nell'intervallo quello strano quello anomalo da 0 a 4 nord ok quindi qua l'aria freddissima si è già formato del ghiaccio sopra vediamo cosa succede sotto il ghiaccio avete presente quelle immagini dei mari polari dove al di sotto del ghiaccio si vede la foca che sta nuotando piuttosto ok dei pesci c'è ancora vita no sotto il mare ghiacciato perché perché sotto il ghiaccio io ho uno strato che si troverà a 2 gradi centigradi beh e sotto quanto sarà sarà più caldo per quello che abbiamo detto prima no il freddo incomincia a congelare diventare più freddo nella zona più esposta verso l'aria ecco che la domanda è si mescola ancora l'acqua qui risposta no qui non abbiamo più il mescolamento perché riguardiamo il grafico della densità allora a 2 gradi sono qui ok a 4 gradi sono qui quindi a 2 gradi che sono scusate che sono qui d'accordo la densità a 2 gradi è minore che quella a 4 gradi cosa significa allora significa che a 2 gradi è meno densa e quindi galleggia non scende a 4 gradi è più densa resta sotto quindi qui non si mescola che cosa significa allora significa che avremo una temperatura dell'acqua stratificata quindi io ghiaccio poi 1 grado 2 gradi 3 gradi e poi da tutta la parte sotto si troverà tutta a 4 gradi e questa cosa permette appunto la vita nei mari polari ok questa è la prima parte la seconda vi faccio un altro video così non diventa troppo pesante a tra poco ciao ragazzi non diventa non diventa non diventa